Su Via Moscardelli, ennesimo incidente stradale, un incidente mortale. Un'anziana è stata agganciata, travolta ed uccisa da un camion che trasportava macerie. Il corpo è ancora sul posto, sta arrivando il PM per disporre poi il suo trasferimento all'obitorio del San Salvatore dopo gli accertamenti di rito che sta eseguendo la polizia stradale dell'Aquila. Stando a quanto si è preso dalle prime frammentarie ricostruzioni degli incidenti, il grande camione che trasportava macerie, mentre dal parcheggio di un supermercato adiacente si stava immettendo su Via Moscardelli, avrebbe agganciato il carrello della spesa che l'anziana 79enne aveva con sé, facendola cadere a terra e schiacciandola subito dopo con il terzo asse sterzante. L'anziana è morta sul colpo, sul posto, polizia, carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco insieme al PM di turno pace.